Presenti 262, votanti 271, maggioranza 136, favorevoli 172, contrari 99, la Camera approva. Tutti d'accordo nel definirla una giornata storica, il doppio sia la Camera e il Senato fa diventare legge e l'autonomia differenziata. Dopo una seduta a Fiume, 172 voti a favore, 99 contrari, passa il DDL Calderoli, una riforma realizzata dal governo Meloni ma che ha indiscutibilmente un unico padre, la Lega. Grazie al grande lavoro del Ministro Calderoli, grazie a Luca Zaia, al Vice Premier Matteo Salvini che l'ha posta al centro dell'agenda politica del nostro governo. Li ringrazia uno a uno Alberto Stefani, segretario della Liga Veneta, relatore dell'autonomia. Zaia da Roma convoca una conferenza stampa poche ore dopo la notizia. La lotta alle diseguaglianze, questa è la vera sfida, la sfida di un paese, come dicono gli esperti di federalismo, il federalismo è centripeto, cioè grega i paesi, il centralismo è centrifugo, li disgrega. Quindi penso che sia un'azione anche verso l'unità. La Lega esulta ricordando gli esoldi del referendum. I Veneti avevano votato con la maggioranza assoluta un plebiscito il referendum nel 2017. Gli alleati orgogliosi, i meloniani non mancano di sottolineare il loro ruolo nella partita. Solo grazie al governo Meloni è arrivata l'autonomia differenziata. Forza Italia intanto manda un messaggio di unità. Questo provvedimento che finalmente comincia a dare un po' di autonomia a tutte le regioni d'Italia. Così il passionario in casa Lega, l'assessore regionale Roberto Marcato. Fratelli Italia dice che è merito della Meloni se abbiamo l'autonomia. Perfetto. Se questo è vero, le deleghe non LEP devono arrivare entro 15 minuti e quelle non LEP bisogna trovare le risorse e far arrivare anche quelle. Dobbiamo continuare sulla strada della responsabilità amministrativa predica il presidente di Anci Veneto in quota Lega Mario Conte. Non c'è un comune in Veneto che sia in dissesto o in predisesto finanziario. Significa che la cultura del buon governo e la sensibilità nei confronti dei nostri cittadini fa parte del nostro DNA. Ecco, questo significa autonomia. Coloro che la temono sono coloro che sono abituati a chiedere esclusivamente aiuto a Roma. In aula tutta la notte la maratona notturna contro cui l'opposizione punta il dito. Durissimo questa mattina il segretario del Partito Democratico Veneto, Andrea Martella. Si è consumato sulla pelle dei cittadini il vergognoso baratto fra autonomia differenziata e premerato. A Fratelli d'Italia il premerato è una riforma che scardina la nostra Costituzione. La Lega ha l'autonomia differenziata, provvedimento che cristallizza le diseguaglianze del nostro Paese. Ora toccherà alla Regione portare avanti le intese riavviando le trattative con Roma. Pronto il Veneto a chiedere il via libera per quelle materie nove non soggette ai livelli essenziali di prestazione. Tutto questo dopo la promulgazione della legge da parte del Capo dello Stato.